Gloria a Dio, chi era presente domenica scorsa? Alleluia, per quelli che non erano presenti vi faccio un breve riassunto. Se vi ricordate... cosa Giusi? La serranda? Sì, se vuoi la puoi abbassare per entrare meno solo, ok? Abbiamo parlato della conversione dell'Apostolo Paolo, una vera conversione, perché non dovremmo predicare sulla vera conversione, ma dovremmo predicare soltanto sulla conversione, perché se noi diciamo che è una vera conversione, significa che c'è anche una falsa conversione, ma la conversione è vera, e la conversione dell'Apostolo Paolo era vera, perché quando l'Apostolo Paolo credette, sappiamo la storia, la sua vita cambiò, i suoi pensieri cambiarono, le sue azioni cambiarono e lui poteva dire, come abbiamo cantato, io sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Immagina quale responsabilità in queste parole che abbiamo cantato stamattina, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Immagina, dentro di noi vive il Cristo, lo sappiamo, vero? Lo Spirito Santo vive dentro di noi, abbiamo una grande responsabilità, ma io mi chiedo e vi chiedo, se questo fosse vero sempre e al cento per cento, cioè che Cristo vive in noi, non siamo più noi che viviamo, ma è Lui che vive dentro di noi. Immagina quante cose che facciamo non faremmo, o quante cose che diciamo non le diremmo. Davide, Sela, rifletto io, però desidero che riflettiamo tutti, affinché possiamo sapere che la nostra conversione è una vera conversione. L'Apostolo Paolo, da quel momento in poi, da quando Gesù gli apparve, da quando Gesù gli disse che la sua vita era nell'errore, cosa disse? E io ho considerato tutte queste cose come tanta spazzatura. Non ci fu un cambio, come ho detto domenica scorsa, non ci fu un cambio di priorità. Non è che quelle cose a cui Lui aveva dato tutta la sua vita erano ancora importanti per la sua vita, semplicemente passarono dal primo posto al secondo posto, ma tutte quelle cose in cui Lui aveva fondato la sua conoscenza, aveva fondato la sua religiosità, quelle cose Lui le considerò come tanta spazzatura. E come ho detto domenica scorsa, la spazzatura non si conserva, la spazzatura si getta via. Quelle cose che prima gli erano guadagno, adesso davanti all'eccellenza di Cristo, poteva dire, quelle cose non sono più utili per la mia vita. Quelle cose che prima io credevo, adesso invece le ho messe da parte, le ho accantonate, le ho gettato via, perché ho conosciuto colui che ha preso il posto, la priorità nella mia vita, a cui io ho dato la mia vita, e adesso non c'è più bisogno che io ritorno e ho rigurgito quelle cose che ho sempre fatto, ma semplicemente il mio modo di pensare è cambiato, il mio modo di credere è cambiato, il mio modo di agire è cambiato, perché le nostre opere, le nostre azioni, devono essere congruenti con quello che crediamo. Infatti Paolo, nella epistola che è scritta ai Galati, disse, ora quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. Questo lo disse in calce quando fa l'elenco delle opere della carne e dei frutti dello spirito, dice queste parole, dice queste parole molto importanti che voglio rileggere. Ora quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. In pratica, la nostra natura è cambiata. Adesso non siamo più schiavi della nostra natura carnale, perché noi quella l'abbiamo crocifissa. E adesso possiamo dire tutti insieme non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Dovrebbe essere così, vero? Dovrebbe essere così, ma purtroppo non sempre è così. O meglio, non sempre nel corso della nostra giornata è così, perché a volte purtroppo la nostra carnalità, la nostra natura, corrotta, chiama gatta, vuole spazio, vuole che noi agiamo come Saulo e non come Paolo. ma sai questo quando accade, quando tu la spazzatura non l'hai buttata via, quando ancora tu non sei realmente convertito. Ricordiamoci che Gesù disse ai suoi discepoli dopo molto tempo che camminavano con lui e sarebbero dovuti essere convertiti al 100%, a un certo punto gli disse quando voi vi convertirete. Wow! Che significa Gesù? Io credo che Pietro in quel momento intescava i ricchi, era quello che scalpitava di più. forse dentro di sé disse ma cosa vuol dire il Maestro quando voi vi convertirete? Ma come noi abbiamo creduto alle sue parole, noi ci siamo allineati con la sua dottrina, noi che eravamo giudei adesso invece ci siamo convertiti, siamo diventati cristiani, gloria a Dio per quanti cristiani ci sono stamattina. Però forse quelle parole ancora sono ripetute a ciascuno di noi e il Signore Gesù ancora dice a noi stamattina quando ti convertirai. quando non farai più le opere di prima, quando hai capito al cento per cento che quelle cose in cui tu avevi riposto tutta la tua fiducia prima di convertirti a me adesso sono diventate spazzature, ogni tanto le tiriamo fuori, le risuscitiamo, il vecchio uomo, la natura corrotta che c'era in noi esce fuori e incominciamo a fare quelle cose che facevamo prima quando eravamo Saulo. Ma il Signore stamattina vuole parlare al cuore di ciascuno di noi per dire non è il caso che tu continui a comportarti da Saulo perché io ho trasformato la tua vita, io ho trasformato persino il tuo nome e tu non ti chiami più Saulo ma adesso il tuo nome è Paolo. Adesso tu sei un uomo del tutto convertito. Il tuo cuore non è più a quelle cose a cui avevi dato affezione prima che tu conoscessi me ma adesso il tuo cuore è mio e noi non possiamo dare il nostro cuore al Signore in percentuali ma noi lo dobbiamo dare per intero lo dobbiamo dare al cento per cento non possiamo seguire la via con la V maiuscola se ogni tanto ci fermiamo come ho detto domenica scorsa e torniamo indietro piuttosto di fare una corsa verso il Signore invece torniamo indietro perché l'Apostolo Paolo diceva io mi protendo leggiamo insieme Filippesi incominciamo con come avevamo finito domenica scorsa con il testo che è stato il motivo conduttore del messaggio di domenica scorsa per andare oltre Filippesi capitolo 3 al verso 12 dice non che io abbia già ottenuto il premio o sia già arrivato al compimento ma proseguo per afferrare il premio poiché anche io sono stato afferrato da Cristo mi piace questo io proseguo poiché anche io sono stato afferrato da Cristo a volte noi pensiamo che questo percorso è accidentato ci sono molte prove è vero ci sono molte prove ma pensiamo che sia difficile però l'Apostolo Paolo qui ci sta dicendo qualcosa per risollevare il nostro morale affinché noi possiamo capire che non siamo da soli io proseguo dice per afferrare il premio poiché anche io sono stato afferrato da Cristo l'Apostolo Paolo con gli occhi dello Spirito vedeva in fondo vedeva il premio vedeva quella ricompensa e non si fermava continuava perché anche lui anche io dice l'Apostolo Paolo sono stato afferrato con Cristo non è un premio non è un traguardo che mano a mano che camminiamo lui si allontana come facevamo noi con i nostri figli quando gli volevamo insegnare a camminare loro facevano tre passi noi andavamo indietro e loro ne dovevano fare ancora e per loro era come se fossimo quasi irraggiungibili ma quando si ferma mi pare non ce la faccio più no no il Signore Paolo dice anche io sono stato afferrato da Cristo in questa corsa non è un inseguimento perché il Signore si ferma perché il Signore riconosce il desiderio del tuo cuore lui non corre via ma si ferma e faremo una cosa io inseguirò il mio traguardo io inseguirò il mio Cristo e il mio Cristo mi verrà incontro lui verrà incontro la mia vita mi aiuterà non ti scoraggiare fratello non ti scoraggiare sorella perché nel momento in cui tu hai capito che hai un traguardo da raggiungere quel traguardo sta facendo dei passi verso di te si sta rivelando la tua vita e ti sta dicendo vieni figlio mio perché il traguardo è qui l'apostolo Paolo lo capiva io mi protendo dimentico anche le cose che ci sono dietro di me perché voglio raggiungere il premio invece purtroppo per alcuni questo diventa un'utopia perché piuttosto che andare in avanti seguendo il premio osservando il premio anzi come diceva ebrei fissando lo sguardo su Gesù autore e compitore della nostra fede invece cosa facciamo ci fermiamo perché abbiamo soltanto conosciuto il Signore ma non abbiamo capito che c'è una corsa non abbiamo capito che c'è una gara non abbiamo capito che c'è qualcosa che anche noi dobbiamo fare non possiamo rimanere inerti pensate che la grazia farà tutto il resto la grazia ha fatto la cosa più importante ci ha dato la salvezza perché noi siamo salvati per grazia però come spesso diciamo è forse il caso di ribadirlo soltanto una cosa è gratuita la salvezza tutto il resto ti costerà qualcosa che poi ricordatevi che la salvezza è gratuita per noi ma è costata qualcosa è costato tutto al nostro Signore perché è facile dire la salvezza è gratuita gloria a Dio la salvezza è gratuita ma per quella salvezza Gesù ha dato la sua vita quindi nel momento in cui tu ti fermi nel momento in cui tu non prosegui nel momento in cui tu non ti protendi verso il futuro in avanti andando a mirare il palio andando a capire che c'è una una meta da raggiungere significa che non stai stimando la grazia che è in te perché Paolo scrivendo a Tito disse che la grazia ci insegna la grazia ci insegna a fare cosa a rinunciare a rinunciare alle empietà a rinunciare alla nostra concupiscenza la grazia ci insegna e quindi noi dobbiamo andare dalla stessa direzione purtroppo invece andiamo in lausia fatti la grazia ci spinge verso di qua i principi di Dio ci spingono verso di qua ok li ho capiti Signore tu me ne hai parlato questi i tuoi principi questa è la tua parola però io voglio fare a me cosa e mi giro dall'altra parte perché insisto e in questo momento in questo modo sai che cosa faccio sto resistendo allo Spirito Santo lo sto anche contristando perché il Signore mi sta dando i saggi consigli che vengono dalla parola di Dio e io ne sto facendo come orecchio da mercante non è così fratelli la vita di un cristiano la vita di un cristiano abbiamo detto domenica scorsa e lo ribadiamo anche questa domenica è una gara andiamo nell'epistola di Paolo che Paolo scrisse a Tito Paolo scusa a Timoteo nella seconda epistola che Paolo scrisse a Timoteo al capitolo 2 perché Paolo ci vuole fare capire che noi siamo dei soldati arruolati nell'esercito di Dio e ci vuole fare capire anche che noi siamo degli atleti che gareggiamo in una gara perché c'è un premio da raggiungere seconda epistola di Paolo a Timoteo capitolo 2 verso 3 dice tu dunque sopporta afflizioni come un buon soldato di Gesù Cristo nessuno che presta servizio come soldato si immischia nella faccenda della vita se vuole piacere a colui che l'ha arruolato è chiaro questo concetto se tu sei militare se tu sei soldato se hai degli obiettivi strategici che devi conquistare non ti puoi immischiare con gli altri al fare della vita perché sei stato chiamato a fare quello e allora fallo bene noi come cristiani siamo arruolati nell'esercito del Signore Gesù ed è a Lui che dobbiamo piacere ricordatelo che tu non devi piacere ad altri uomini non devi piacere a coloro con cui cammini non devi piacere ai colleghi di lavoro non devi neanche piacere a volte a tuo padre o a tua madre a tua moglie a tuo marito o ai tuoi figli ricordati che prima di ogni cosa c'è quello di piacere al Signore che ha fatto grazie alla tua vita per cui se tu sei riconoscente a quella grazia che hai ricevuto dice Signore eccomi io mi metto in divisa militare io mi metto in mimetica e voglio essere concentrato per raggiungere gli obiettivi strategici che tu mi hai dato in questa dura battaglia dice similmente se uno compete nelle gare atletiche non riceve la corona se non ha lottato secondo le regole a me piace tanto lo sport quindi questi paragoni sono pane e fumaggio per me mi piace pensare che la vita di un cristiano possa essere paragonata alla vita di un atleta però pensavo questo che molti atleti partono per una gara specialmente quelle più lunghe le maratone le marce ma non tutti arrivano perché non tutti arrivano eppure sono tutti bravi magari si erano pure preparati fra poco ci saranno le olimpiadi ci sono stati gli europei ma non tutti arrivano perché perché non tutti hanno quella disciplina a perseverare sapete il cammino cristiano non è un cammino breve è un cammino lungo e in questa gara atletica che ci è posta davanti dobbiamo essere disciplinati per comprendere che dobbiamo avere gli occhi su Cristo in questa gara dobbiamo capire che c'è un palio che c'è una meta che c'è una ricompensa bellissimo bellissimo quel passo di scrittura che si trova in ebrei undici quando l'apostolo Paolo fa dei paragoni degli esempi di fede parla di Mosè e dice che per fede Mosè quando divenne adulto cosa fece rifiutò i tesori di Egitto preferì soffrire con il popolo di Dio piuttosto che godere per breve tempo quei tesori di Egitto che l'avrebbero portato fuori in poche parole anche Mosè capì che quei tesori in Egitto che prima aveva stimato molto prima che Dio gli parlasse che Dio gli rivelasse l'io sono capì che prima tutte quelle cose anche tutti quei beni materiali quelle ricchezze che aveva goduto nel palazzo reale adesso li considerava spazzatura ma come Mosè ti scialasti gran parte della tua vita li hai passate nei tesori nelle ricchezze ricchezze materiali e ora cosa fai? butti via tutto questo per andare a soffrire con il popolo di Israele la figlia del faraone probabilmente gli diceva ma io ti posso dare molto di più però dice che Mosè preferì soffrire con il popolo di Dio sapete perché? perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa immagina non gli interessava nulla di quello che i suoi occhi stavano vedendo ma aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa allora cosa fece? disciplinò la sua vita la sua vita fu disciplinata perché potesse perseverare affinché quel premio quella ricompensa un giorno la potesse godere appieno e ricordiamoci che i tesori del mondo li godremo soltanto per un tempo non pensare ancora se sei giovane parlo ai giovani ancora sono giovane ho tante cose da fare ma grazie a Dio perché i nostri giovani fanno delle esperienze bellissime hanno fatto il campeggio due giorni qui una full immersion nella parola di Dio vero Carmelo Valentina Giussi una full immersion nella parola di Dio perché questo è la ricompensa che noi desideriamo per i nostri giovani per i nostri figli desideriamo che i nostri figli possano capire che non c'è nulla di più importante che servire il Signore lascia stare quello che il mondo ti può offrire sono cose passeggere però Mosè come l'Apostolo Paolo capirono che c'era una meta capirono che c'era un traguardo da raggiungere e capirono che c'era una ricompensa da ottenere atleti mi colpisce qui l'Apostolo Paolo che scrive similmente se uno compete nelle gare atletiche non riceve la corona se non ha lottato secondo le regole ma la grazia non ha regole e chi l'ha detto? chi le ha fatte queste regole? nelle gare atletiche si riunisce una commissione sportiva e prima che gli atleti possano careggiare cosa fanno? stabiliscono delle regole ci sono delle regole tu non puoi oltrepassare la tua colonna se sono queste corse brevi se la maratona tu devi correre in un certo anzi c'è quell'altra gara che è la marcia ci sono delle regole se tu alzi il piede da terra nella tua corsa sei squalificato prima di escono un cartellino giallo non so se al secondo cartellino sei fuori oppure al terzo ma in ogni caso se non corri secondo le regole sei squalificato perché ci sono delle regole quella commissione sportiva ha fatto delle regole in politica ci sono delle regole chi le fa le regole chi le fa le leggi si riunisce il Parlamento la Camera dei Deputati vero? il Senato poi il Presidente della Repubblica le deve approvare e poi diventano leggi e tutti noi dobbiamo seguire quelle leggi perché se non seguiamo quelle leggi siamo fuori legge e la legge ci può perseguire ma nel Regno di Dio chi fa le regole? il Pastore il Pastore le fa le regole meno male chi ne fa il Pastore chi le fa le regole? un collegio di anziani il Pastore nomina un collegio di anziani gli anziani si riuniscono e stabiliscono le regole funziona così magari il Pastore il responsabile dell'opera in primis stabilisce un ordine perché Dio è un Dio di ordine non è un Dio di disordine quindi è buono che nella casa del Signore ci sia un ordine gli anziani anche fanno in modo che ci sia ordine nella Chiesa ma chi stabilisce le regole? fratelli questa non è una democrazia noi non serviamo un Presidente della Repubblica e io qui non sono un democratico cristiano io sono un cristiano perché noi serviamo un Re di un Regno e le regole le stabilisce Lui quindi se tu sei squalificato perché non hai seguito le regole non ti apigliare col regolamento perché tu stai servendo un Re tu sei in un Regno dove il Re stabilisce ciò che è buono e non è buono per te però ti lascia libero ti lascia libero e ti dice questo è il bene e il bene viene dall'essere ubbidienti ai miei principi chiamiamoli principi se no qualcuno si impressiona se le chiamiamo regole perché pensano che magari stiamo predicando il legalismo no no stiamo predicando la benedizione di Dio perché nell'ubbidienza c'è benedizione nella disubbidienza sei illuso se pensi che ci possa essere benedizione nella disubbidienza non funziona così perché egli è il Re è il Re di un Regno eterno e io sono contento di essere stato stabilito in questo Regno e io sono contento di seguire i Suoi principi perché come abbiamo detto da tante domeniche a questa parte i Suoi principi non sono gravosi dipende da quanto tu lo ami dipende da quanto tu hai stabilito di mettere la tua carnalità da parte e adesso servirlo non più con la tua carnalità perché la tua carnalità fa pugni con la spiritualità primo corinzi primo corinzi capitolo 9 primo corinzi capitolo 9 verso 24 dice non sapete voi che quelli che corrono nello stadio corrono bensì tutti ma uno solo ne conquista il premio correte in modo da conquistarlo voglio subito chiarire qualcosa stiamo parlando di un esempio di una gara atletica grazie a Dio in questo Regno in questa gara in questo palio non c'è concorrenza ho stimato molto quello che il pastore Nicola ha predicato giovedì c'era un messaggio in quel messaggio c'era un messaggio non c'è concorrenza fra credenti non c'è rivalità fra credenti dobbiamo aiutarci gli uni con gli altri perché il Signore ha dei premi e i suoi premi non finiscono immagina quante generazioni quanti miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di persone hanno dato la loro vita al Signore e immagina quanti premi Dio ha stabilito per premiare tutti quelli che in ubbidienza hanno detto sia al Signore e no alla propria carnalità per cui non temere sì il Paracone è una gara atletica dice correte in modo da conquistarlo ora chiunque compete nelle gare si autocontrolla in ogni cosa e quei tali fanno ciò per ricevere una corona corruttibile ma noi una incorruttibile io dunque corro ma non in modo incerto così combatto ma non come battendo l'aria anzi disciplino il mio corpo e lo riduco in schiavitù perché dopo aver predicato agli altri non sia io stesso riprovato dopo aver predicato agli altri io devo fare molta attenzione a quello che sto predicando che è parola di Dio che sono i principi di Dio affinché come l'Apostolo Paolo non si fidava neanche di se stesso io non mi fido neanche di me stesso e dico Signore fai che io possa vivere per le verità di questi principi che sto predicando che non sono buoni soltanto per la Chiesa ma sono altrettanto buoni per il pastore che li sta predicando gli altri concorrono per una gara che per ricevere un premio corruttibile ma noi per riceverne uno è incorruttibile il mondo ci offre tanti premi tante cose materiali ma queste finiranno col tempo ma ricordati che la gara che tu stai vivendo la stai vivendo per un premio incorruttibile che è un premio eterno che ti sarà assegnato in quel giorno in cui anche tu dirai ho combattuto il buon combattimento ho finito la corsa e ho osservato la fede e addosso ricevo il premio che il mio Signore Gesù Cristo ha riservato non soltanto a me ma a tutti coloro che hanno amato la sua apparizione alleluia un premio incorruttibile guarda qui il Signore ci sta dando dei consigli perché come sempre non è buono soltanto denunciare il problema cioè il rischio che noi potremmo vivere carnalmente ma il Signore ci dà anche le soluzioni e qui ce ne dà quattro ci dà quattro consigli che brevemente voglio esporre per fare in modo che la Chiesa sia equipaggiata per poter resistere nei giorni in cui c'è una tentazione nella tua vita perché la tentazione nella tua vita ci sarà ci sarà il momento in cui sarai chiamato a fare una scelta e penserai sto facendo bene o sto facendo male vuoi conoscere tu i principi di Dio la volontà di Dio tu la vuoi conoscere alza la tua mano se la vuoi conoscere alleluia tutti la vogliamo conoscere ma la domanda la seconda è più compromettente della prima se dopo aver conosciuto i principi di Dio capisci che il tuo comportamento era indirizzato verso questa qualche azione sbagliata hai il desiderio di convertirti e di tornare sui tuoi passi alza ancora la tua mano se è sì gloria a Dio il Signore sta vedendo la nostra mano sta vedendo la sincerità del nostro cuore quindi se tu hai il desiderio di piacere a colui che ti ha arruolato non soltanto devi conoscere la sua volontà ma dopo averla conosciuta devi essere anche in grado di dire Signore converti il mio cuore voglio tornare indietro non era buono quello che stavo facendo ma tu mi hai parlato la tua parola mi ha parlato e adesso so ciò che tu vuoi da me il primo consiglio è correte in modo da conquistarlo c'è un atleta che sta correndo in una pista c'è un traguardo suona la campanellina dell'ultimo giro ci arriva una telefonata e esce dalla pista l'hai mai visto una cosa del genere? no perché è concentrato è focalizzato c'è un traguardo da raggiungere e niente e nessuna cosa lo potrebbero distogliere da quel traguardo che ha davanti è così convinto di potercela fare che dice no non mi interessano tutte le altre cose che potrebbero portare distrazione nella mia vita so quello che devo fare devo raggiungere quel traguardo e niente e nessuno mi scoraggeranno dal continuare la corsa sto continuando la corsa quanto hai fatto 10.000 metri siccome devi fare gli ultimi due centro allora come Paolo dimenticati i 9.800 metri che hai fatto perché ti devi protendere in avanti quelli che hai fatto prima servono soltanto per portarti lì dove ti hanno portato perché se non avessi fatto quei 9.800 metri non saresti a 200 metri dal traguardo ma ora devi concentrarti sui 200 metri non vivere sugli allori di quello che è stato non vivere pensando ancora al giorno della tua conversione domenica scorsa io ho detto chi si ricorda il giorno della conversione non sapevo che il Signore mi avrebbe dato la seconda parte di questo messaggio chi si ricorda il giorno della conversione ma molti ancora sono fermi lì bello qualcuno mi ha parlato dato la mia vita al Signore e mi sono fermato lì no adesso sei agli ultimi 200 metri devi continuare devi proseguire perché senza quei 200 metri se ti fermi a 9.800 metri sarai squalificato ma il Signore dice corri in modo correte in modo da conquistarlo c'è un premio che devi conquistare vai avanti continua a leggere la parola di Dio continua a pregare continua ad avere comunione con i fratelli perché è questo che ti farà vincere il premio leggi la parola di Dio perché è lì che è una fonte inesauribile di consigli è una fonte inesauribile di benedizioni di promesse che si avvereranno nella tua vita soltanto se ci credi soltanto se fai gli ultimi 200 metri se ti fermi prima purtroppo non puoi dire ma erano 10.000 metri ne ho fatti 9.800 e non mi dai il premio ultimamente avete visto che c'è stata quella gara di quel dello scattiato un uomo veramente straordinario che riesce a fare la traversata dello stretto su un filo quanto aveva fatto 3 km e 4 3 km e 4 gli mancavano 200 metri sapete com'è finita ci fanno un bel applauso è caduto e poi però non hanno omologato il suo record nella parola di Dio però ci possiamo rialzare il Signore non ci squalifica se tu sei caduto e ti sei rialzato e fai quegli ultimi 200 metri hai visto mai ci sono state nella storia dell'atletica leggera delle corse veramente indimenticabili quando qualcuno gli hanno dato proprio io gli darei il premio Nobel a una persona che fa una cosa del genere qualcuno era caduto all'ultimo dopo una gara così lunga interminabile e qualcuno prima di tagliare il traguardo lui ricordate quelle immagini le avete mai viste si è fermato gli ha dato una mano a quello che era caduto a terra l'ha rialzato gloria a Dio e poi gli ha detto vieni vieni perché il traguardo è vicino non mi interessa non lo voglio tagliare soltanto io non lo voglio tagliare da solo fratelli questo è l'amore di Dio noi siamo cristiani e noi siamo seguaci di Cristo e se vediamo che qualcuno si è fermato se vediamo che qualcuno è caduto ecco perché ci vuole la comunione fraterna ci fermiamo e diciamo alzati guarda dov'è il traguardo ce la stai facendo non ti fermare ora non è il momento questo di lasciare di mollare ma questo è il momento di continuare perché dobbiamo camminare e correre come dice l'Apostolo Paolo in modo da conquistare il premio non cadiamo fratelli nel peccato perché il peccato ci appesantisce e ci rallenta è come se corressimo con una zavorra hai visto mai un centometrista che quando corre si mette il piombo nelle scarpe no no anzi quelle scarpe adesso pesano che ne sacco 15 grammi perché deve alleggerirsi deve mollare tutto quello che il mondo ci sta propinando che ci sta mettendo addosso come una zavorra perché vuole che noi arrestiamo la nostra corsa ma noi vogliamo dire signore io mi voglio rivestire di te perché la corsa che tu mi hai dato è una corsa leggera il tuo carico è leggero il tuo peso è leggero è dolce e io con il tuo peso ce la farò a tagliare quel traguardo lascia il tuo e il tuo non è buono abbandona la tua carnalità e dice Giovanni dice figlioletti miei non peccate ci dà questo consiglio meraviglioso non peccate come un padre figlioletti miei non peccate se anche peccate ricordatevi che Gesù Cristo è il vostro avvocato ricordatevi di confessare i vostri peccati se diciamo di essere senza peccato lo facciamo bugiardo e la verità non è in noi ma se noi confessiamo il nostro peccato egli è fedele e giusto e ci perdonerà e ci libererà da ogni iniquità alleluia così funziona nel regno di Dio egli è il misericordioso il perdonatore a che punto ti trovi nella tua vita ti sei fermato riprendi la tua corsa se hai bisogno di aiuto parla con qualcuno qualcuno ti alzerà e ti dirà ecco il traguardo è vicino ce la possiamo fare secondo consiglio ora chiunque compete nelle gare si autocontrolla l'autocontrollo questo sconosciuto no no l'autocontrollo questo conosciuto perché l'autocontrollo è un frutto dello spirito lo dovremmo conoscere un atleta deve avere l'autocontrollo immaginati tu se un atleta qualunque invece di autocontrollarsi si setta a tavola e comincia a mangiare primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e comincia a mangiare si allena ma nello stesso tempo mangia a dismisura in grassa potrebbe mai presentarsi ai nastri di partenza 10, 20, 30 kg in sovrappeso che speranza avrebbe di poter vincere quella corsa allora cosa fa? si autocontrolla si disciplina io mi ricordo che quando giocavo a calcio facevo anch'io la stessa cosa a volte uscivo il sabato sera con gli amici miei io li manciavano e sbafavano e io mi mi tenevo perché poi l'indomani dovevo giocare avevo la partita di campionato dovevo rimanere nel mio peso non potevo strafare l'atleta di Cristo si autocontrolla sa qual è il suo limite e non ti preoccupare se gli altri penseranno che sei esagerato i miei amici pensavano che io fossi esagerato ma boh che stavo a fare ma io sapevo che poi quelli si fermavano qui e nella partita poi era difficile per me superare l'avversario perché l'avversario correva più di me quindi cosa dovevo fare dovevo autocontrollarmi la mia vita doveva essere autocontrollata perché sapevo che avevo una gara per il cristiano funziona allo stesso modo tu sei in una gara tu devi essere disciplinato devi essere autocontrollato e non importa se non piace a tutti non importa se altri ti diranno che sei esagerato non importa se anche un fratello o una sorella ti dirà che sei esagerato oh questa coscienza mi disse una volta un fratello ma tu hai questa coscienza ma sempre un fratello ma questa tua coscienza non mi importarono quelle parole sapete perché? perché io volevo piacere a colui che mi ha arruolato non mi interessava sembrare esagerato per qualcuno perché io ho deciso di piacere a Cristo e non mi interessano i commenti non mi interessano i consigli degli altri perché so che devo avere lo sguardo rivolto alla ricompensa autocontrollo secondo esempio terzo terzo consiglio che il Signore ci dà io dunque non corro ma non in modo incerto così combatto ma non come combattendo l'aria come battendo l'aria immagini tu non so se avete visto mai una gara di pugilato ce l'avete presente quando il pugile si riscalda l'avversario è a tre metri e sto pugile comincia a dare pugni nell'aria quello significa battere l'aria sì in quel momento si sta allenando però non ti allenare troppo perché quelle sono energie che stai perdendo perché poi quei pugni li devi dare al tuo avversario se tu hai un fucile e sei in guerra non è che puoi sparare in aria il nemico ce l'hai di fronte e tu spari in aria ma devi sparare al nemico devi centrarlo devi colpire il bersaglio hai un obiettivo ben preciso e noi ricordiamoci che spariamo spesso al nemico perché noi abbiamo molti nemici nel nostro percorso cristiano chi è il nemico numero uno no no sì sì il nemico numero uno non è satana no no perché satana può fare nella tua vita soltanto ciò che tu gli permetti se tu apri una bella porta e puoi sparare anche una bella finessa lui entra e poi tu dici ma questo satana che mi fa guerra no sei stato tu a farlo entrare perché tu conoscevi i principi di Dio e non li hai messi in pratica non sei stato obbediente e ora ci saranno dei risvolti ci saranno delle conseguenze per quegli atti che tu hai fatto e satana incomincia a farti guerra ma il nemico numero uno è te stesso sei tu stesso è la tua carnalità quella carnalità che combatte con la tua spiritualità quello che l'apostolo Paolo scrivendo ai romani capitolo 7 disse ma oh miserabile uomo che sono com'è possibile che quelle cose che vorrei fare non le faccio e invece quelle cose che non dovrei fare sono quelle che faccio chi mi libererà oh miserabile uomo che sono ma questo che stava parlando era Saulo non ci culliamo perché l'apostolo Paolo scrisse queste parole pensando che anche noi dobbiamo necessariamente passare da quella strada e allora siccome Saulo a Saulo gli vennero questi dubbi e capiva che la sua carnalità combatteva contro la sua spiritualità noi diamo da mangiare alla nostra carnalità e ci dicevamo decca ora lotta con la mia spiritualità no no il peccato lo dobbiamo sfuggire non è vergogna scappatini dattela a gambe dove ci sono delle tentazioni dove ci sono delle brutte compagnie dove ci sono dei brutti ambienti non è per te l'apostolo Paolo diceva ogni cosa io la posso fare ma non ogni cosa mi è utile ci sono delle cose ci sono degli ambienti ci sono delle compagnie che è meglio che tu non frequenti pur sia un fratello non ti preoccupare perché a volte Satana si usa anche di persone e per accecare i tuoi occhi sai cosa fa non ti prende l'ubriacone della strada o quello che tu notoriamente sai che è tutto immerso nel peccato ti fa accompagnare da un fratello che magari sta attraversando un periodo difficile e ti sta dando dei consigli sbagliati in quel momento quello rappresenta una cattiva compagnia anzi sai che fai siccome tu hai un cuore rigenerato dagliere tu due consigli e gli dici sai quelle cose che tu mi hai consigliato di fare non sono secondo la volontà di Dio non sono principi di Dio è meglio che torniamo sui nostri passi sia io che te perché c'è il tempo per essere riscattati e oggi è il tempo del riscatto oggi è il tempo in cui noi stiamo comprendendo che c'è una gara un palio davanti a noi c'è una ricompensa da raggiungere e allora il Signore ci sta dicendo tieni lo sguardo fisso sulla ricompensa non battere l'aria non è il caso che tu continui a battere l'aria non è il caso che le tue scelte siano scelte che ti fanno che ti portano a battere l'aria e a non raggiungere l'obiettivo ma invece fai una cosa fai una cosa fissi il tuo sguardo su Cristo autore e compitore della tua fede e vedrai che tu non batterai più l'aria ma colpirai il bersaglio e lo centrerai esattamente lì come Davide centrò la testa di Colia alleluia e poi gli dirai non solo io ho centrato la tua testa ma io te la staccherò e la darò in pasto agli uccelli del cielo affinché tu non abbia più a combattere le schiere del popolo di Israele resisti alle tentazioni resisti agli inganni resisti alle illusioni di questo mondo perché non fanno per te queste ti portano soltanto a battere l'aria ma tu sei stato chiamato invece a raggiungere quello che la scrittura chiama ricompensa e la chiama corona la chiama corona la corona della nostra vita è quella che tu devi raggiungere e alla fine il quarto consiglio ci dice io dunque corro ma non come battendo l'aria anzi disciplino il mio corpo e lo riduco in schiavitù perché dopo aver predicato agli altri non sia io stesso riprovato disciplino il mio corpo l'atleta sa come deve disciplinare il suo corpo l'atleta sa che se deve fare diecimila metri si deve allenare per coprire tutta quella distanza l'atleta sa che se deve fare una maratona deve coprire tutta quella distanza e cosa fa? si allena si allena sempre di più disciplina il suo corpo e non si ferma alla prima fatica sapete io avevo un allenatore tanti anni fa che mi ha dato un consiglio mi ha aperto gli occhi su una cosa e dopo tanti anni ancora lo ricordo e mi disse guarda Davide mentre tu ti alleni stavamo facendo un allenamento molto duro quando tu ho detto sono arrivato alla fatica mi volevo fermare e lui mi ha detto ti do questa dritta se tu ti fermi ora non solcherai non andrai mai oltre la fatica perché il vero allenamento si ha quando tu raggiungi la fatica e vai oltre la fatica da quel momento in poi incomincia il vero allenamento perché significa che tu stai spostando stai alzando la tua sticella significa che tu stai andando oltre quello che fino a ieri eri in grado di fare il Signore ci chiama a resistere e disciplinare il nostro corpo non si tratta ovviamente del corpo fisico qui la parola di Dio sta soltanto usando un esempio quando parla in questo momento di corpo fisico sta parlando della nostra natura non del nostro corpo non devi disciplinare semplicemente il tuo corpo non ti affare a doccia e ghiacciata d'inverno non devi fare i fioretti non devi non mangiare carne il venerdì per chi fosse ti piace ci stai upisci non è questo che la parola di Dio ti chiama a fare la parola di Dio ti chiama a disciplinare a lottare a essere in grado di vincere la tua carnalità perché c'è un obiettivo c'è qualcosa che tu devi raggiungere e lo devi fare con tutte le tue forze lo devi fare disciplinando riducendo il tuo corpo in schiavitù perché Gesù disse ai suoi chi vuole venire dietro me rinunzi a se stesso prenda la tua la sua croce e mi segua cosa dobbiamo fare con quella croce cosa vuoi crocifiggere tu in quella croce se non la tua carnalità se non i tuoi istinti se non quello che la tua mente vorrebbe andare a fare se non quelle cose che l'apostolo Paolo elenca in gala di 5 quando parla delle opere della carne prendile a 1 a 1 e inchiodali alziamoci in piedi prendile a 1 a 1 e inchiodali li leggo io gala di 5 c'è bisogno c'è bisogno di inchiodarli c'è bisogno prima di conoscerli cosa sono quelle cose che ci zavorrano nella nostra corsa e nel nostro percorso dice ma ora le opere della carne sono manifeste sono adulterio fornicazione impurità dissolutezza idolatria magia inimicizie contese gelosie ire risse divisioni sette inviti omicidi ubriachezze gozzoviglie e cose simili a queste circa le quali vi prevengo come vi ho già detto prima che coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio ma noi signore queste cose le abbiamo inchiodate noi signore Gesù queste cose non vogliamo più che nella chiesa del signore neanche vengano nominate noi desideriamo che queste cose abbiamo stabilito nella nostra vita che non abbiano la preminenza nella nostra vita abbiamo stabilito nel nome di Gesù questa mattina che noi seguiremo la via la verità e la vita che in fondo a lui c'è un traguardo meraviglioso che è la corona della vita e per essa noi vogliamo camminare per essa noi vogliamo correre via diciamo no a quello che Giovanni dice e chiama le concupiscenze della carne diciamo no alle concupiscenze degli occhi diciamo no alla superbia della vita e diciamo sì al nostro signore salvatore alziamo le nostre mani sì signore lo abbiamo capito signore non soltanto abbiamo capito la tua parola e i tuoi principi ma abbiamo un desiderio stamattina che è quello di mettere in pratica la tua parola perché signore tu hai messo davanti a noi un traguardo che alla fine del quale signore raggiungendolo tu ci darai quella corona della vita che ci spetta ci spetta di diritto signore perché tu ci hai fatto figli tuoi grazie signore perché vogliamo avere lo sguardo dritto verso la ricompensa non vogliamo guardare né a destra né a sinistra ma vogliamo guardare te te soltanto capo e compitore della nostra fede ti benediciamo figlio di Dio per questa parola che è stata seminata nel cuore di ciascuno di noi ma è per primo che l'ho predicata grazie signore per la tua unzione grazie per il tuo santo spirito che spezza il gioco e mette in libertà queste vite signore e le vite delle loro famiglie e di quanti ancora lo ascolteranno benedici il tuo popolo signore benedici la tua chiesa messina e fa che tutti insieme di un cuore possiamo avanzare il tuo regno nel nome di Gesù Cristo e la chiesa dice amen amen Dio vi strabenedica grazie a tutti